Un'azienda di sani principi, quindi un'azienda assolutamente da considerare un fiore all'occhiello della realtà piemontese, nazionale e internazionale. Il nostro rapporto, dopo 30 anni, è sempre più unito e sempre più forte. La qualità, la frutta certificata, quella filiera che dà la certezza al consumatore. 50 molte grazie perché questa sera siete soprattutto amici. Il bene più grande che oggi ha la battaglia è quello di avere dei rapporti veri su cui potersi fondare e su cui poter costruire i prossimi 50 o chissà quanti anni. È un grandissimo piacere, 50 anni! Battaglio significa un partner, un amico sincero. Una bellissima serata per il cinquantesimo dell'azienda Battaglio. La garanzia della qualità, che è uno dei valori, uno dei punti forti dell'azienda. Tanti auguri, altri 50 anni così!